Qui dentro Togo abbiamo portato un nostro spettacolo storico che è sulla Commedia dell'Arte, quindi è un classico ovviamente su canovacci del Cinquecento, uno spettacolo ispirato alle maschere, Usiamo le maschere della Commedia dell'Arte, il titolo è Pulcinella va la guerra, è proprio il titolo di un canovaccio storico questo del Cinquecento, ovviamente abbiamo fatto un'operazione di riadattamento anche a livello musicale e a livello di tematiche, che l'abbiamo un po' reso contemporaneo, però rimane lo stile della Commedia con lazzi e giochi acrobatici o momenti all'improvviso dove si interagisce anche con il pubblico, ma soprattutto c'è un grosso lavoro fisico di lavoro sulla maschera. Questo è uno dei nostri primi spettacoli, dove siamo stati invidati anche in Corea, abbiamo girato l'Austria, è stato uno dei spettacoli all'interno dell'anno della cultura italiana, quindi ci siamo affezionati, è uno spettacolo per bambini ma non solo, è uno spettacolo per tutti, per famiglie, e un po' in piccolo si vede quello che poi è nato più là con gli anni, quello che anche qui da queste parti abbiamo già, alcuni di voi hanno visto, con altri spettacoli come C'era una volta o Felliniana, dove insomma le tecniche sono complicate e le strutture, le scenografie sono aumentate di dimensioni. Spacca il vostro lavoro! Voglio vedere chi sta per uccidere! Parecchi anni che collaboriamo con i comuni qui del Velino, tra Borgo Velino, quest'anno anche Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Canetra, perché siamo affezionati? Prima di tutto perché uno dei componenti ovviamente della nostra compagnia ha origini borghettane, ma non è questo, ci siamo veramente trovati bene, siamo stati accolti, sentiamo che è un terreno ovviamente fertile per la cultura, lavoriamo molto con i bambini in queste zone, quest'anno cominciamo anche con gli adulti, anche con lavori di laboratori, quindi non solo spettacoli, ma anche educare un pubblico, un linguaggio teatrale attraverso dei laboratori. Dite che provo! Ma chiederti se ti avessi qualcosa oppure no! Mi chiederti un'attore!